Nella fine nessuna delle due compagini è riuscita ad avere la meglio, ma abbiamo assistito a un confronto intenso, soprattutto dal punto di vista tattico. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. Un ringraziamento e un saluto anche da parte mia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.